È possibile che tu non sappia ancora che io sono, che tu non creda che io sono te realmente e che io sono in ugual modo tuo fratello e tua sorella e che siete tutti parte di me ed uno con me. Tu puoi non riconoscere che l'animo tuo e quello dei tuoi fratelli, le sole parti veramente imperiture del tuo tu mortale, sono soltanto aspetti differenti di me, esprimentisi nella cosiddetta natura. Così pure può essere che tu non comprenda che tu e i tuoi fratelli siete aspetti o attributi della mia divina natura, precisamente come la tua personalità umana, con il suo corpo, la sua mente e il suo intelletto mortali, sono aspetti della tua natura umana. No, tu non puoi ancora comprendere questo, ma io te ne parlo ora perché tu possa conoscere i segni quando essi cominceranno ad apparire nella tua coscienza, come certo appariranno. Ma per riconoscere questi segni tu devi studiare attentamente e meditare quanto segue e non passare oltre finché tu non abbia almeno in parte afferrato quel che io voglio dirti. Una volta compreso bene il principio che io qui stabilizzo, tutto il mio messaggio diviene chiaro e comprensibile. Innanzitutto io ti do la chiave con la quale aprirai ogni mistero che ora ti nasconde il segreto del mio essere. Quando avrai imparato ad adoperarla, questa chiave ti aprirà le porte di tutta la sapienza, di tutto il potere nel cielo e sulla terra. In vero, essa ti aprirà la porta del regno dei cieli e tu non avrai che da entrare per divenire coscientemente uno, come me. Questa chiave è pensare e creare. Ciò che può essere espresso così. Tu sei come pensi nel tuo cuore. Fermati e medita su questo affinché si fissi saldamente nella tua mente. Un pensatore è un creatore. Egli vive in un mondo di propria cosciente creazione. Quando tu sai come pensare, puoi creare a volontà qualunque cosa tu voglia, una nuova personalità, un nuovo ambiente, un nuovo mondo. Vediamo se puoi afferrare alcune delle verità nascoste e dominate da questa chiave. Ti ho mostrato come tutta la coscienza sia una e come tale coscienza sia al tempo stesso la tua, quella dell'animale, della pianta, della pietra e della cellula invisibile. Hai visto come questa coscienza sia retta dalla mia volontà che unisce le cellule invisibili, forma i vari organismi per l'espressione e l'uso dei diversi centri di intelligenza attraverso i quali io desidero esprimermi. Ma non puoi ancora comprendere come tu possa dominare, dirigere la coscienza delle cellule del tuo corpo e più ancora quelle degli altri corpi. Quantunque tu ed io ed essi siamo tutti uno in coscienza ed intelligenza. Facendo bene attenzione a quanto segue, potrai riuscire a comprenderlo. Hai mai meditato su cosa sia la coscienza? Come essa paglia essere uno stato impersonale di attenzione, un'aspettazione di servire o di essere adoperata da qualche parte latente in te e in intima relazione con te? E come molti pagliano essere il tipo più elevato di organismo contenente tale coscienza, diretta ed usata da questo potere interiore? E che tale potere, latente tanto nella coscienza umana quanto in ogni altra, è soltanto la mia volontà? Ti è stato detto che al principio io creai l'uomo a mia immagine e somiglianza, che poi soffiai lui l'alito di vita e che egli divenne un'anima vivente. Creando l'uomo a mia immagine e somiglianza io creai un organismo capace di esprimere tutta la mia coscienza, tutta la mia volontà, il mio potere, la mia intelligenza e tutto il mio amore. Io lo feci perfetto fin dal principio, modellandolo secondo la mia perfezione. Quando io soffiai nell'organismo umano, il mio alito, esso divenne vivo di me, poiché in quell'istante io alitai in esso il mio volere, non dall'esterno, ma dall'interno, dal regno dei cieli dove sempre io sono. E d'allora in poi io sempre respirai e vissi e debbi esistenza dentro l'uomo, avendolo creato a mia immagine e somiglianza a questo scopo. Perciò dovunque sia l'uomo io sono e qualunque cosa l'uomo faccia o tu faccia sono io che lo faccio e qualunque cosa tu dica o pensi sono io che dico e penso attraverso il tuo organismo. Ti fu pure detto che quando l'uomo fu così compenetrato dal mio alito gli fu dato il dominio su tutti i regni della terra, il che significa che egli fu fatto signore della terra, del mare, dell'aria e degli eteri e che tutti gli esseri viventi in tutti questi regni rendevano omaggio a lui ed erano soggetti al suo volere. Naturalmente era così poiché io dentro la coscienza umana e dentro tutte le coscienze manifesto continuamente il mio volere ed io il signore e il regolatore dell'organismo dell'uomo sono pure signore e regolatore di tutti gli organismi in cui dimora la coscienza e poiché tutta la coscienza è la mia coscienza e dimora dovunque è vita e poiché non v'è sostanza in cui non sia vita la mia coscienza deve essere in ogni cosa nella terra, nell'acqua, nell'aria e nel fuoco e deve perciò riempire tutto lo spazio infatti essa è spazio o ciò che l'uomo chiama spazio la mia volontà essendo il potere latente in tutta la coscienza deve estendersi dappertutto quindi la volontà dell'uomo che è solo una localizzazione della mia volontà deve pure estendersi dappertutto e perciò la coscienza di tutti gli organismi la tua compresa è soggetta al dominio e alla direzione dell'uomo occorre soltanto che egli realizzi coscientemente che io, il sé imperante dentro di lui di continuo dirigo domino ed uso la coscienza di tutti gli organismi in ogni momento, in ogni giorno della loro vita e io faccio questo per mezzo del suo pensiero io lo faccio per mezzo dell'organismo dell'uomo egli crede di pensare ma sono io, il suo sé reale che penso per mezzo del suo organismo e per mezzo dell'atto di pensare io compio tutto ciò che compie l'uomo e faccio dell'uomo e del suo mondo ciò che sono non importa che l'uomo e il suo mondo non siano ciò che egli suppone essi sono precisamente come io li ho creati per il mio scopo ma tu dirai se è sempre questo solo io che pensa l'uomo non pensa e non può pensare sì, questo sembra un mistero ma ti sarà svelato se tu osserverai attentamente quanto segue poiché io insegno ora a te uomo come pensare